Amici del Bardo, anche oggi eccomi qui con tutte le ultime news dal mondo della WWE. Ma prima vi ricordo che oggi Raw è alle 18.30 su Sky Sport 1, il canale 201. Se per voi è troppo presto, magari siete al lavoro o spero io al mare, in montagna, in ferie, niente paura. C'è già una replica alle 21, ma su Sky Sport Arena, il canale 204. Qui sotto, nei commenti, come al solito, no spoiler e no anticipazioni, sino al termine della giornata. D'accordo? Perfetto. Detto ciò, andiamo al notiziario. In un'intervista concessa prima di Raw, AJ Styles ha dichiarato che da ora in poi il gruppo da lui capitanato, che al momento comprende Hugh Gallows e Karl Anderson, si chiamerà D.O.C., scritto D.O.C., con le due lettere O e C, che stanno a significare Only Club. EJ ha anche aggiunto che Finn Balor è da considerarsi perennemente invitato a far parte della fazione, qualora evidentemente o eventualmente voglia aggregarsi alla banda. Vi piace questo nuovo nome? Tutto sommato, il messaggio che cerca di vicolare è che questo è l'unico club che conta, siamo l'unico, il solo club. Oppure avreste preferito qualcosa di più differente, distanziato da questa precedente identità che Styles e gli altri di derivazione nipponica vestivano nella terra del sollevante? Fatemi sapere di Tarroventi qua sotto nei commenti. Eric Bischoff ha dichiarato che il suo lavoro come direttore esecutivo di SmackDown è iniziato soltanto ieri e che le responsabilità e i settori a cui deve dedicarsi sono davvero numerose e numerosi. Anche per questo, mettendo un po' le mani avanti, ha chiesto ai fan un po' di pazienza, di modo da potersi ambientare e di modo da agire guidato dalla ragione più che dall'istinto o dall'impulso del momento. E io credo che sia una richiesta normale, è inutile mettere un cerotto quando la ferita è più profonda. Facciamo lavorare Eric Bischoff, in passato ha dato prova di sapere estrarre dal cilindro delle idee geniali, è chiaro che nulla avviene in un istante, quindi con calma io credo che possa fare bene. Intervistato da Lilian Garcia, Coffey Kingston ha ribadito l'importanza di essere tornato, ve lo ricorderete, qualche settimana fa in Ghana, in qualità di campione WWE, diventando un esempio vivente del insegui i tuoi sogni. Io avevo trovato quelle foto, quelle testimonianze videografiche particolarmente importanti e toccanti. Non solo, Coffey ha reso noto che inizialmente quel viaggio era previsto per il mese di agosto, quindi fra qualche settimana, ma poi è stato anticipato per mille motivi legati insomma al calendario interno della WWE. Durante la sua permanenza in Africa, il lottatore del New Day ha avuto modo di passare del tempo anche con la nonna, che purtroppo è morta due settimane fa. Se il ritorno a casa, chiamiamolo così, fosse stato confermato con le tempistiche originali, Coffey non avrebbe potuto salutarla un'ultima volta. E quindi da Lilian Garcia si è detto grato, felice, un po' come se la vita abbia voluto silenziosamente allineare i tasselli nella maniera ideale per permettere un ultimo loro incontro. E questa notizia che è abbastanza marginale, se vogliamo vedere, nell'economia di tutto quello che accade, non solo nel mondo del wrestling, ma insomma nel nostro globo terraqueo, Beh comunque dovrebbe farci ripensare un attimo alla casualità e alla bellezza di questa esistenza che ci propone spesso degli eventi di cui non ci rendiamo conto, delle cause, conseguenze, effetto che sbocciano mentre le nostre palpebre sono chiuse senza che il faro della nostra vista sia indirizzato su quanto è stato bello che certe cose si allineassero permettendoci di vivere degli eventi speciali. Insomma Coffey è successo, lui l'attenzione ce l'ha avuta alta, insomma quello che coinvolgeva sentimenti familiari era molto importante, quindi è normale che lui si sia avveduto di tutto, però per molte altre cose ecco invece siamo particolarmente distratti da troppe sirene. Va bene voltiamo pagina senza abbandonarci a troppe derivazioni filosofiche, anche perché qua fuori continua a passare gente e mi guardano come a dire questo è un po' fuori di testa, oggi il Tg lo sto registrando ad un orario diverso dal solito, più tardi e c'è molto fermento nella redazione di Sky Sport. Allora, la voce del giorno riguarda una possibile promozione nel brevissimo periodo di Shana Basler, campionessa di NXT, nei roster principali. Mentre la cosa potrebbe avvenire sempre da un momento all'altro ed è valida per chiunque, tutti potrebbero essere improvvisamente promossi, ad ora non ho trovato nessuna traccia concreta che la WWE stia lavorando verso questa soluzione. Di certo l'età non gioca a favore dell'ex combattente di arti marziali miste. Anche se nel ring appare molto più giovane, per via di uno stile aggressivo, spumeggiante e concreto, merito di una forma fisica eccellente, Shana, se la carta d'identità non ci mente, se non ci inganna, ha già 38 anni. Dunque, se WWE desidera monetizzarla a Raw o a SmackDown, chiaramente non può permettersi di attendere ancora molto a lungo, dovendola poi svezzare al loop infinito dagli show settimanali e delle apparizioni pubbliche e di beneficenza. Sapete che a NXT, insomma, queste cose si fanno col contagocce, lo stress è estremamente più ridotto, non devi fare lunghi viaggi, non devi spostarti per registrare magari dei promo o del materiale pubblicitario, non devi partecipare ad eventi di beneficenza o sportivi. Quindi, entrare in questo tritacarne, in questo frullatore, quando sei, non dico la soglia dei 40, ma quasi, non avendolo mai fatto, può anche comportare delle difficoltà inizialmente non preventivabili. Voi cosa fareste con Shaina? La terra reste, tra virgolette, in maniera stabile a NXT, esaurendo magari lì la sua carriera, e Triple H in passato l'ha detto, alcuni atleti resteranno a NXT e diventeranno caposaldi di quei territori, oppure comunque pensate che 4-5 buoni anni a Raw e SmackDown possa ancora tirarli fuori, malgrado le premesse che vi ho detto, verità avanzata, e ovviamente in abitudine a quella che è la schedule lavorativa dei piani alti, fatemi sapere qua sotto nei commenti. In un video pubblicato sul sito WWE, Kevin Owens ha sostanzialmente sfidato Shane McMahon a SummerSlam, aggiungendo che in caso di sconfitta sarebbe anche disposto a lasciare la WWE. Francamente a me sembra uno scenario già abbastanza visto e rivisto, abbastanza trito, Kevin Owens negli ultimi anni è stato licenziato o allontanato da un roster non so quante volte. Vabbè, comunque per ora, al di là di queste dichiarazioni, di ufficiale non c'è nulla, magari Owens ha semplicemente calcato un po' la mano, preso dall'impeto del momento, anche se il match tra i due nel prossimo pay-per-view sembra sostanzialmente inevitabile. La storia, il flusso narrativo sta conducendo verso questa finalità. Pare che settimana scorsa, cambiando completamente argomento, The Rock fosse al Performance Center e vi avevo avvisato, ve l'avevo detto proprio in questo TG, ma ora sembra che sia venuta a gala la verità, ovvero che fosse lì per accompagnare la figlia Simone, che da tempo ha ottenuto una deroga che le permette di allenarsi saltuariamente nella struttura, malgrado non sia ancora maggiorenne. Credo che compia 18 anni, a breve, a settimane, ma già quando ne aveva 16 ha avuto questo lasciapassare speciale. È anche ovviamente possibile che l'ex lottatore, oggi star del cinema, abbia parlato con i dirigenti da WWE in merito a suoi futuri coinvolgimenti con la federazione in qualità di ospite speciale. Si parla molto, ad esempio, della figura di The Rock legandola al debutto della WWE negli States con SmackDown, questo debutto, il debutto di SmackDown che arriverà a ottobre su Fox, solo negli Stati Uniti. Ma oltre a queste supposizioni, purtroppo non possiamo andare perché i meeting li fanno a porte chiuse. Direi che con questo ho terminato, ma prima di salutarvi, vi ricordo che oggi Ro è alle 18.30 su Sky Sport 1, il canale 201, e che c'è già una replica alle 21, ma su Sky Sport Arena, il canale 204. Inoltre, qui sotto, con dita Roventi, seguendo il faro dell'educazione, potete commentare, come al solito, senza spoiler e senza anticipazioni, tutte le news che ho condiviso con voi. In quanto a noi, beh, in quanto a noi, ci vediamo quanto prima, sempre solo qui sul canale del Bardo. Alla prossima! Ciao!